Hey Warriors, ho siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi e siamo noi, siamo noi e siamo noi un nuovamente qui per un nuovo video, un video, un video, un vlog, salvato all'ultimo, sempre con il vostro Rex91, sempre qui per il vostro domenica e un Rex91, perché ovviamente state su, di domenica, su un video di Rex91 è perché c'è domenica e un Rex, ok, bene, quindi, andiamo subito con alcune piccole novità sul canale, e, allora, so che avete sicuramente visto che ho ricominciato a modifichare i video molto molto pesantemente perché è una cosa che comunque mi piace fare e diciamo poi dipenderà dal video qualche video sarà un po meno lavorato qualcuno un po più lavorato dipende che battute faccio se ci stanno bene delle immagini delle scenette eccetera ce le metto senza problemi quindi come avete visto si è tornati alla grande si è riniziato e dato che non tutti l'hanno capito ripeto che inizierò metodo 2033 e resident evil 1 la versione per il gamecube quindi il remake dopo aver finito vampire child of light e god and praticamente attuano adesso che sto registrando che il 3 luglio quindi è giovedì quindi tre giorni prima che voi vediate questo video no nel di sabato e domenica quattro giorni prima che vediato questo video o regi allora parente di god and mi mancano quattro livelli no scusate cinque livelli di god and quindi saranno tre puntate più o meno ancora da registrare di god and child of light credo ne manchino un paio e vampire ne mancheranno qualcuna in più quindi vampire credo sarà l'ultima serie che finirò perché ci vorrà un po di più in ogni caso torneranno a brevissimo le cop anzi non so se quando vedrete questo video avrò già inserito dei delle cop perché sono in previsione molte belle cop qualcuna forse avete già visto oppure le dovrete ancora vedere non lo so ancora vedremo come andranno a finire queste cose un sacco di persone bellissime e continueranno ovviamente quando altre persone si saranno liberate dei loro impegni del tipo dito credo che attualmente stia facendo gli esami di maturità e art e altra gente ovviamente sta facendo anche lei gli esami di maturità o un qualche cavolo di roba nell'occhio che mi dà un fastidio ok perfetto quindi una volta che tutti si saranno liberati dei loro impegni credo che torneranno tranquillamente un sacco di belle copine alcune saranno già tornate come detto oppure diciamo proprio una cosa di giorni 1 2 giorni da che vedete questo video detto questo detto questa cosa sto facendo tipo smithars libera i cani ma non ho cane avevo un gatto una volta ora non lo proprio e intendiamo ancora le domande ecco di che diavolo dovevo parlare tendenzione valerio totti 10 qual è stato la tua migliore run su dark soul il primo ovviamente credo la l'ultima perché praticamente ci ho messo meno tempo e e sono riuscito a ammazzare praticamente tutti anche se a livello di difficoltà quella migliore secondo me è stata solo per one che adesso è sparita perché ovviamente mi hanno sottato il canale maledetto boh indian quali canali segui di più su youtube per i 20.000 fare una live su youtube allora per i 20.000 attualmente no perché sospettando di aumentare la linea ancora purtroppo era in previsione di aumentare la linea di upload in modo tale da poter fare delle live purtroppo da quello che ho saputo nella mia zona ancora non hanno messo la fibra minima quindi quella da 30 mega e 3 megabyte in upload la devono mettere quindi appena la inseriranno vedrò se si riesce a fare un passaggio e di aumentare la linea in modo tale da poter iniziare anche le live o su twitch o su youtube adesso vediamo dove però per il momento purtroppo ancora no per quanto riguarda quali canali youtube seguo di più allora prettamente seguo e americane quindi per fare conto markiplier uber axor nova leggermente ultimamente sono iniziando a di seguire più di paio un pochino tra i otec o ciao dicmonkey comunque cry perché segue più di paio cinnamon toscan eccetera sa chi è cry comunque ciao dicmonkey è il nome del canale cry è il nome del del tizio quindi uber axor nova quello quell'altro leggerissimamente un po yamimesh sinaners e angry joshio gangrams e un po di altra gente tipo pino battle gamers john tron e simili ovviamente io vi ho detto i canali a cui sono iscritto e che tendo a seguire ovviamente dato che durante la giornata ho più o meno un'oretta libera di cui 20 25 minuti per giocare per conto mio e una mezz'oretta per seguire qualche video che mi piace quindi ovviamente durante la giornata non riesco proprio a vedere tutti questi canali riuscirò a vedere un paio di video al giorno più o meno poi piano piano recupero totalbiscuit eccetera mentre italiani a cui sono iscritto c'è ovviamente dido espi giochi sabbaku perdonatemi è che ho una capoccia del cavolo e quindi non riesco veramente a vedere tutti io tobi pepo quit trombone e praticamente tutta la gente con cui faccio le cop e che mi piacciono anche come youtuber ovviamente vai lo scorso lo stesso scorso lo stesso discorso ma che problema c'ho oggi con labiale io sono messo abbastanza male non metto c'è ovviamente lo stesso discorso degli americani ovvero ho pochissimo tempo e quindi non sempre riesco a seguire tutti gli youtuber che vorrei ne seguo un paio al giorno proprio tanto per goblumen 93 rexen rexen riesce a leccarti la punta scusate oggi c'ho qualche problema di dislessio non ho idea di che cosa c'è però la lingua torcigliata trozzate il tacchino sfarinato del pranzo non ne ho la più pallida idea ok daxen riesce a leccarti la punta del gomito ci si prova ci si prova questo ce la faccio peli malettissimi peli tutto via scusate c'ho tutto il comito umido ma comunque leo eq gaming come si sta comportando la tua nuova scheda video o giusto perdonatemi mi ero scordato questa cosa ultimamente vi sono comprato questo geforce gtx 760 della psi pny no psi pny mi sbaglio sempre l'addiction questa qui sempre della in video gtx 760 geforce geforce gtx 760 quindi ho comprato questa piccola scheda che adesso è montata dentro il mio computer e durante il montaggio c'è stato un po' di panico paura perché ci vanno 22 prese da sei pin e quando sono andato bene ho trovato solo una da sei panico paura dopo mezz'ora praticamente di bellissime parole tanto che è dovuto anche scendere san giuseppe a dimmi guarda per favore smetti la stai facendo piangere la signora ok scusa sono andato aprire dietro il cassettino e ne ho trovato un altro che non mi serviva e lo avevo legato dietro quindi bella sono sono proprio furbo e non il caso questa bellissima scheda video si sta comportando da dio riesco a far girare praticamente tutto al massimo del dettaglio non posso provare i 1080p purtroppo i 1900 per 1080 come risoluzione video proprio perché il mio monitor non prende il 1080 io ho un monitor dell'hp che prende massimo 1600 per 900 quindi non posso anche un altro motivo oltre ovviamente le dimensioni spropositate che verrebbero dei video non posso fare video a 1080p cioè o quantomeno potrei farlo ma verrebbero strecciate e quindi si vedrebbe male e sarebbe praticamente inutile farle 1080p però sì questa scheda si sta comportando veramente bene mi piace veramente tantissimo perché è ottima così che è così che ha neanche tanto veramente questa l'ho comprata su amazon a 180 euro è una scheda grafica da 2 gb gddr 5 e devo dire che si comporta veramente da dio non ho avuto praticamente nessun problema con nessun tipo di gioco per il momento e credo che anche in futuro riuscirà a reggere bene qualche anno benissimo qualche anno la butto lì cinque anni cinque annetti buoni li regge questa scheda in ogni caso se volete sapere che tipo di componenti ci sono dentro a questo computer dato che me lo chiedete quasi sempre nelle informazioni del canale aggiorno ogni volta e cambio un pezzo quello che c'è dentro al computer quindi nelle info del canale trovate tutte le componenti del mio computer tutte e con questo computer attualmente gira tutto al massimo del dettaglio senza nessun problema rallentamento eccetera quindi bella per me te salvo cariotti rex pensi anche te che la domanda che la risposta a tutto è 42 se sì qual è la domanda fondamentale credo quante volte un uomo dovrebbe ipoteticamente cagare in un anno potremmo dire che ho trovato la domanda esistenziale per la risposta esistenziale della vita Einstein non sei un cazzo di nessuno xrael 91 domanda cosa ti sei comprato con gli sconti di steam e non solo sentendo i quelli estivi praticamente un cazzo tranne aspettate come si chiamava quel gioco a di tannazione si chiamava impossible games che costava tipo un euro non ho comprato un cazzo perché ho avevo già tutto quello che hanno messo in sconto quindi praticamente non mi sono c'è io attualmente su steam ragazzi non sto scherzando ho precisamente proprio spaccato è 600 giochi 600 giochi spaccati tutti li tutti rotti tutti che non funzionano in gioco tutti sono battuta del cap ok quindi ho 600 giochi su steam praticamente sono io steam è a me che steam ha chiede i prezzi dei giochi quindi praticamente non ho comprato una fava di niente su steam un po mi ha dispensato un po no perché il mio portafoglio finalmente ha fatto ah e finalmente non compra un cazzo ed è stato abbastanza contento io praticamente nì perché ho 600 giochi lo sapete che è brutto avere troppi giochi non sto scherzando è brutto averne troppi perché non sai a che cazzo giocare oggi vorrei giocare a tocchi tori 2 plus però vorrei anche finire sacra gold oppure the last remnant però anche democracy 3 o perché in un gioco anche a state of decay o resident evil no sei no è tipo sei ce l'ho ma quindi è buono perché hai tanti giochi tra cui scegliere è brutto perché hai tanti giochi tra cui scegliere non ha un senso logico ma ha un senso logico credo che questa storia formerà un buco nello buco nello buco nello l'iperspazio che porterà tante gente cinesi tutte qui tutti dentro casa mia tutti faremo tutti i festini con tanti di involtini primavera riempiti di cadaveri cinesi perché così che i cinesi fare involtino primavera prendere cadaveri cinese metterlo dentro involtino primavera friggere tu mangiare involtino primavera dire oh cazzo quanto buono questo fottutissimo involtino primavera e tu sai che lì c'è cadavere di cinese quindi tu mangiare cadavere di cinese sapendo che cadavere di cinese ti piace cadavere di cinese se un cazzo di cannibale tu sei un cazzo di cannibale credo sia arrivato il momento di tornare dentro alla mia stanza con le mure imbottite quindi se permettete io prenderei andrei ma vado a fa cura con una buona dose di elettroshock quindi termino questo video vlog qualsiasi cosa sia diventato questo video dopo queste ultime cazzate con scappellamento a destra e grazie per il cos'è chi mi sta scrivendo oh c'è pepo pepo cosa vuoi pepo la penso signor rexen oh si oh si rexen oh si ok vabbè non è brutta cosa però ok va bene buon pomeriggio a destra il cos'è chi mi sta scrivendo Grazie a tutti.